Ora dico che bisogna fare le riforme costituzionali e piglio una serie di insulti. Perché l'avevi fatta, no? Finché non cambi le regole del gioco, devi avere un meccanismo in cui il cittadino sceglie. Oggi non sta scegliendo, perché chi sceglie la Meroni c'ha dentro Salvini che chiede il 15%, Berlusconi che chiede il 23%, non è così. Bisogna avere un programma unico dove chi vince governa per cinque anni. È giusto? Questo passaggio, che vincano gli altri o si vinca noi, è giusto, è il sindaco d'Italia. Primo punto. Secondo punto, è evidente che se Letta imposta la sua campagna elettorale giocando a perdere... Come sta facendo? Punto interrogativo? Lo puoi chiedere a chiunque la strategia... No, ma dimmi il tuo pensiero. Oh Max, e ti fa un disegnino? Fammi un disegnino. 10 minuti lo dico. Ho letto che Letta vuole andare... Qualcuno dice che Letta vuole andare alla segreteria generale della Nato. Se ha questa capacità strategica e va alla Nato, tempo sei mesi, i russi arrivano a Portogallo. Ragazzi, ma non è cattiveria, eh? Cioè, ma guardate che io lo dico con affetto, perché... Beh, insomma, affetto è una parola grossa. E te lo dirò. Politicamente lo dici. Io non ho nessun problema personale. Ho detto a Letta il giorno dopo, diteci cosa volete fare. Perché Letta poteva fare l'accordo con noi e con Azione e dire noi si fa il fronte Draghi e ci avrebbe visto al suo fianco.